Cine americano, cinema italiano? Dipende. Il cinema tipico americano non mi interessa, però ci sono autori americani di grandissimo valore, Clint Eastwood, piuttosto che ce ne sono svariati. Clint Eastwood è un esempio, tra l'altro che io adoro, perché è un uomo che è andato avanti sempre, cioè la vecchiaia è stato un progresso e non un deteriorarsi. E questo è un personaggio per me molto... E il cinema italiano sicuramente ci sono cose molto belle, sicuramente ad alcune persone è reso troppo difficile fare le cose e quindi si fatica e ogni progetto ci si impiega tanto tempo, ci si arriva a stremati, ma ho lavorato ultimamente in Viola di Mare, il film di Donatella Mallorca, che è un altro film di donne, molto al femminile, tutt'altra problematica diciamo. Però in fondo ci sono sempre dei paralleli e quella è stata un'esperienza molto bella e di nuovo appunto un lavoro coraggioso, un lavoro che cerca una verità e che parte dal cuore, senza dimenticarlo mai. Dopo questo mio progetto teatrale adesso sto lavorando alla scrittura del nuovo film di Donatella Mallorca. Sì, sto lavorando alla scrittura perché diciamo che io scrivo da tutta una vita, ho scritto uno spettacolo teatrale che andò al Teatro Valle quattro anni fa, ma poi insomma per vari motivi ancora non l'ho riproposto come vorrei e quello diciamo è un altro progetto molto impegnativo, molto impegnativo per le difficoltà in Italia a fare le cose che sono... ci vuole veramente tanta energia. Comunque sto lavorando alla scrittura di questo nuovo film insieme a Donatella Mallorca, un'altra sceneggiatrice.